Alghero, 8 agosto. Siamo ritornati nella spiaggia che a giugno abbiamo pulito da rifiuti, cose abbandonate in generale da persone non molto civili. Quindi torniamo dopo un paio di mesi. Siamo stati in altre zone della Sardegna e come potete vedere la spiaggia si trova più o meno nelle stesse condizioni. E quando l'abbiamo trovata a giugno. Quindi nuovamente rifiuti di ogni genere, dagli scarichi, le plastiche del water, resti di tampax OB, mollette, tappi, sigarette a non finire, vedete, sigarette a non finire. Resti di accendini, ancora sigarette, tantissime sigarette. Plastiche galleggianti nell'acqua, mondezza varia. Il torpore dell'acqua inizia a farsi vedere, probabilmente c'è qualcosa anche legato agli scarichi, non è più chiara come prima. Qui abbiamo scarpe abbandonate, resti vari di magliette, plastiche, buste di ogni genere, mondezza per tutti i gusti diciamo. Allora noi vogliamo sapere adesso perché l'amministrazione di Alghero non si prende cura di un patrimonio comune di cui tutti quanti i cittadini residenti in questa città paghiamo perché venga pulito e salvaguardato. Ora voi mi dovete spiegare perché questo posto si è ridotto ad un letta maio. Ecco qua, qua siamo nella parte dove sono stati posizionati dei bidoni. Lolita? Vamos! Come vedete c'è di tutto nuovamente. Ecco qua, questa è la spiaggetta sotto i bastioni, l'altra faccia di Alghero. Diciamo che siamo veramente sgomenti, non ho parole. Un saluto a tutti da Alghero, la cittadina catalana che di catalano non ha niente perché i catalani una città come questa l'avrebbero resa famosa in tutto il mondo e soprattutto pulita e soprattutto spiagge come questa che sono veramente un incanto, sarebbero state davvero salvaguardate. Non invece come qua, che oltre a infischiarsene, per usare un termine molto educato, di quello che può essere l'igiene e quindi anche il pericolo a cui i cittadini incorrono perché come vi ho già detto qua è pieno di siringhe con cui i drogati si buccano la notte in queste spiagge dove non c'è controllo, quindi i bambini possono calpestarle, resti di cose intime, un mare di plastica, un mare di plastica che va ancora una volta in mare e quindi va ad inquinare un patrimonio che è di tutti. Arrivederci, alla prossima.